Un bottino complessivo di 4 medaglie d'oro, 7 d'argento e 4 di bronzo. Ancora una volta gli atleti piacentini si sono messi in luce al meeting primaverile Città di Piacenza organizzato dall'Atletica Piacenza. Il campus Pino d'Ordoni è stato teatro delle competizioni regionali su pista che hanno visto protagonisti 230 atleti partecipanti nelle categorie del settore assoluto negli 80 metri cadetti e cadette. Atletica Piacenza sugli scudi con i due ori vinti dal velocista Mattia Favari nei 100 e dai lari a Ricchetti nel salto con l'asta. Bene anche i secondi classificati, medaglia d'argento per Mattia Favari che fa il bis nei 200, Chiara Sverzellati nei 100-200, Lisa Russo negli 800, Lucrezia Proietti nel salto triplo, Camilla Maria Ghezzi nel lancio del giavellotto a lieve e Niccolò Losi negli 80 metri cadetti. Presente come sempre al meeting primaverile anche l'altra società piacentina, l'Atletica Cinque Cerchi, che ha rimpolpato il bottino grazie soprattutto a Francesco Terzoni che si è messo il collo alla medaglia d'oro arrivando davanti a tutti nel salto in lungo. Medaglia di bronzo per Luca Peretti negli 800, Nicola Panni nel salto in lungo, Alice Pansini nel salto triplo e Mila Santi negli 80 metri cadette. Oro infine anche per Sara Balordi, l'Atleta piacentina che corre con i colori del Cusparma si è imposta negli 800.